Buonasera, scusate il disturbo, volevo solo sapere chi viene alla scappagnata di domenica, va bene? Apriamo la busta? Cari amici, io verrei solo se non ci fosse assembramento, anche perché quanti iniziamo? 3, 4, 5, 6, sì, ce la dovremmo fare. Io non so se arrivo a Natale, non so se arrivo a Natale. Io vengo solo se c'è Sky Wi-Fi, la fibra forte come Ibra. Mi piace, io ci sono, anche se però darò un voto, ha la location, ha il menu e ha il servizio. Bene, maestro, c'è anche lei? Ah, vabbè, ce sto pure io. Ma ci sta ancora con te, con sto distanziamento. La rottura da palle, delicatissimo. Massimo, che fanno, andiamo? Basta che dolore pazzesco! Belacciula, belacciula! Faccia da pila! Ciao, cipollini, ciao! Ma certo che ci sono, amori della cia! Eeeh... Ve porto la pasta al forno! Allora no!